Invocazione a Maria Santissima Data da Santa Giovanna d'Arco a Mario D'Ignazio Il 3 agosto 2023 Regina della vittoria immacolata, guerriera del padre, guida del piccolo resto, al trionfo su Satana e sulla sua falsa chiesa mondana, fa che diveniamo semplici, modesti, umili e miti, rendici simili a tuo figlio. Salvaci dall'impostura satanica, da ogni ossessione. Liberaci da ogni maleficio, fattura, invidia, maledizione e sortileggio. Fa che ascoltiamo il tuo appello, e che crediamo in te, sempre di più. Benedicici, o Madre Divina, e coprici col tuo manto, stella radiosa del mattino. Sostienici nella lotta contro le tenebre scese sul mondo. Sii tu benedetta, lodata, e glorificata quale Teotokos. Amen Grazie a tutti